Ciao leitori elettrici di MammaStyle e benvenuti in un nuovo video! Le melanzane quando le friggiamo assorbono veramente moltissimo olio per questo motivo mettendo in pratica qualche semplice escamotage possiamo provare ad evitare che queste risultino troppo unte e pesanti infatti noi di MammaStyle vogliamo mettere in pratica un semplicissimo trucco ovvero quello dell'albume ebbene con questo semplicissimo ingrediente otterremo delle melanzane fritte davvero deliziose e soprattutto non unte questo perché l'albume formerà una sorta di strato protettivo che funge la barriera per l'olio vediamo insieme il procedimento ci basterà dapprima lavare le melanzane dopodiché tagliare a cubetti o magari a rondelle o a strisce come preferite da parte apriamo un uovo di questo raccogliamo l'albume che mettiamo in una ciotolina ovviamente non buttiamo via il tuorlo che possiamo utilizzare per preparare tante altre ricette nel frattempo riscaldiamo un po' d'olio in un pentolino con l'aiuto di un pennello provvediamo a spennellare le melanzane con l'albume stendendone così un leggero strato fatto ciò non dovremmo fare altro che passare alla cottura potremmo così friggere le nostre melanzane in olio ben caldo potremmo fare Ed ecco le pronte, fritte e non superunte Ed ecco le pronte, fritte e non superunte